bentornati a un nuovo episodio dedicato ai filtri di photoshop proseguiamo con ordine quindi come detto siamo purtroppo o per fortuna per qualcuno forse passati alla versione inglese di photoshop stiamo esaminando la cartella brush strokes e siamo al secondo filtro andiamo a vedere quindi angle strokes e vediamo che immediatamente sono state aggiunte delle pennellate che hanno una direzione andiamo quindi a portare a zero tutto quanto cerchiamo di renderci conto di quello che stiamo facendo ovviamente sharpness sappiamo benissimo che cosa fa andiamo a vedere che possiamo agire sulla lunghezza delle pennellate quindi maggiore sarà questo parametro e meno distinta sarà l'immagine e più andremo a vedere delle linee che compongono la nostra pennellata e andiamo a vedere che con direction balance possiamo agire e introdurre delle variazioni sulla direzione delle nostre pennellate un effetto abbastanza interessante con cui si possono creare per esempio degli astratti io ammetto di non essere particolarmente fan di questo tipo di post produzione in quanto vado sostanzialmente a rendere indefinita l'immagine originale però rimanendo su dei valori non troppo estremi è anche possibile tirare fuori qualcosa di carino ovviamente i parametri dipenderanno dalle dimensioni della nostra immagine dalla tipologia d'immagine su cui stiamo lavorando non troppo è ancora una paura non troppo è così ma